Grazie a tutti Io ho avuto so... Le rane fanno dell'acqua una siringa incantata, scordata. La luna spunta dal monte con la sua faccia alla buona di Zitellona. Una stella... Ma non pensiamoci... Con una stretta di mano... Da buoni amici sinceri... Ci sorridiamo per dir... Arrivederci... Grazie a tutti... E dona loro splendore, vitalità e compostezza. La brillantina Linetti usata con lo spruzzatore si distribuisce in modo uniforme su tutti i capelli. La brillantina Linetti dona e mantiene l'ondulazione. Capelli puliti, brillanti e perfetti usando shampoo e brillantina Linetti. La lacrima d'amore sono dolce per chi è chiangere. Amore è un dolore che quando è più salagna chi ho provo è più felice ho sapere. E non lo dice. Per gli ascoltatori sorpresi di Radio Damasco, come già esattamente un mese fa per quelli di Radio Bagdad, l'inno che avete ora udito alla Fafbar costituì il primo sintomo della rivoluzione. Pochi minuti dopo, alle sette e dieci di venerdì mattina, un annunciatore concitato ha letto il bollettino numero uno della giunta rivoluzionaria. Per tante divisioni e lotte e antagonismi che turbano l'umanità. Per tante divisioni e Leah Cassina, e un'area che trovaria l'area, chebandona, vuoi?